Storicamente si usava per alzare metà della tesa del cappello, ma qual è la motivazione? Parliamone. Il cappello a tesa larga o cavalierate era un cappello che è andato molto di moda nel XVII secolo. Era però un cappello abbastanza ingombrante e non era molto comodo per combattere, infatti è proprio per questo che si usava per alzare una tesa e cucirla alla cupola. Non era un cappello comodo per duellare, ma soprattutto non era un cappello comodo per sparare con il moschetto. Infatti il classico cappello a tesa larga con un lato alzato viene chiamato oggi il classico cappello da moschettiere. E c'era un altro posto dove era ancora più scomodo, ossia la nave, perché in una nave ci si sposta in ambienti stretti, pieni di corde, insomma è difficile un po' rigirarsi. Tant'è che iniziarono non solo a tirare su un lembo del cappello, ma ben in tre e che cosa succede quando tu alzi tre lembi a un cappello a tesa larga? E' facile ragazzi, ci fai un tricorno!